Attento! Pronto! 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 Pronto all'azione! Pronto all'azione! Pronto! 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 Pronto, signore. Pronto, signore. Sì, signore. Pronto all'azione. Ordini? Comandi. Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. Pronto! Avanti! Ti respingiamo, signore! Andiamo! Pronto, signore. Sì, 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 signore. Pronto all'azione. Sì, signore. Sì, signore. Signore. Sì, signore. Grazie a tutti. 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 Continuate l'attacco. Pronto, signore. Continuate l'attacco. Grazie a tutti. 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 Formazione. Grazie a tutti. Pronto, signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pronto, signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. 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 , 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 a tutti.